Petrelli, occhi puntati sul Parco della Resistenza con una petizione che ha quale obiettivo? L'obiettivo di richiamare l'attenzione dell'amministrazione. Allora, sapete che sui social sono comparse delle denunce sullo stato di degrado e sulla mancanza di friabilità del Parc Antonelli. Molti cittadini mi hanno invitato a occuparmi del problema, quindi abbiamo fatto una petizione che abbiamo protocollato al Comune nella quale praticamente noi andiamo oltre il discorso del degrado attuale, cioè il degrado c'è. Spesso l'amministrazione si è trincerata dicendo non vi preoccupate, a breve inizierà la ristrutturazione dovuta alla riconversione della centrale e quindi ci sarà una ristrutturazione. Quello che noi ci preoccupa è di stabilire delle regole o stabilire una forma di gestione tale che poi questa nuova ristrutturazione duri nel tempo e che garantisca la friabilità del Parco. È in questa chiave che noi abbiamo sottoposto la questione all'amministrazione, dando anche la mia disponibilità a discutere insieme di eventuali soluzioni in una forma partecipata, in modo tale che finalmente riusciamo a dare un servizio al cittadino quale quello di un po' di verde praticabile. Grazie. 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 Grazie.